Luigi Di Maio ha facoltà di rispondere. La ringrazio Presidente, gentili deputati e gentili deputate. Ieri sera l'ANAC ha consegnato al Ministero dello Sviluppo Economico una lettera in cui rispondeva ai rilevi segnalati. Ricordo che c'era chi prendeva in giro questo Governo dicendo che stavamo perdendo tempo a studiare 23.000 pagine che abbiamo studiato nei primi 45 giorni di Governo e che riguardano anche la procedura di gara. Credo proprio che abbiamo fatto bene, visto che l'ANAC ieri sera ha confermato tutte le criticità che avevamo segnalato. Ci ha confermato che erano fondate le nostre preoccupazioni sulla procedura di gara ILVA. E meno male, aggiungo io, che quelli di prima erano i competenti. Vi espongo in breve le criticità che avevamo segnalato e che l'ANAC ha confermato. La procedura di gara, voglio dire gentilmente, è stata un pasticcio. La rileva l'ANAC nella lettera che ci ha mandato. Il primo rilevo riguarda il fatto che le regole del gioco sono state cambiate in corsa. Quando è stata bandita la gara, il 5 gennaio 2016, chi voleva partecipare alla procedura di gara per l'ILVA doveva fare un'offerta che prevedeva di attuare il piano ambientale entro il 31 dicembre e lo stesso anno. Capirete bene che risanare il territorio attorno all'ILVA in meno di 12 mesi sarebbe stata un'impresa titanica e quindi poche imprese hanno potuto partecipare. Il punto è che dopo che sono scaduti i termini, il 30 giugno 2016, il termine di attuazione del piano ambientale è stato posticipato prima di due anni e poi di ulteriori cinque. Quindi alla fine c'era tempo per risanare fino al 2023, sette anni in più. Se questo fosse stato previsto dal bando iniziale avrebbero potuto partecipare molte più imprese e proponendo offerte molto più pertinenti e di livello più alto. Infatti, in base alla lettera dell'ANAC, si deduce che in questo modo è stato leso il principio di concorrenza e anche la qualità delle offerte proposte ne ha risentito in termini ambientali, occupazionali ed economici. In sintesi, avremmo potuto avere molte più offerte e tutte migliori, compresa quella di Arsenal Mittal e questo avrebbe significato, lo dico ai cittadini che ci ascoltano, più salute per i cittadini di Taranto, più tutela per l'ambiente e maggiori garanzie occupazionali per i lavoratori. A causa di questo primo pasticcio, chiamiamolo così, l'azienda che ha vinto, Mittal, sembrerebbe non abbia rispettato alcuni termini ambientali intermedi inizialmente previsti. Questo, se confermato, di per sé sarebbe bastato ad escludere l'azienda dalla procedura di gara come rilevato dall'ANAC. Ma non finisce qui. L'ANAC ha rilevato che nella procedura di gara il tema dei rilanci era scritto malissimo, in maniera confusa. Da una parte era scritto che si poteva fare, quindi su un documento, ma dall'altra non si spiegava come. Non si capiva di come si sarebbero dovuti fare questi rilanci e in che maniera dovessero essere valutati. Ed è inspiegabile che nessuno se ne sia accorto e che sia rimasto tutto sotto silenzio. Le due offerte che sono state presentate erano una di 1 miliardo e 800 milioni, Mittal, e l'altra di 1 miliardo e 350 milioni, Acciai Italia, in cui tra l'altro c'era Cassa Depositi e Prestiti. La seconda, anche se più bassa, era migliore in termini ambientali e occupazionali, ma si dava, secondo la procedura di gara, un maggiore punteggio all'offerta economica piuttosto che a quella ambientale e occupazionale. Solo l'offerta economica pesava per la metà del punteggio complessivo e quindi l'ambito ambientale e occupazionale si dividevano l'altra metà del punteggio. In questo modo ha vinto Mittal. Acciai Italia è allora rilanciato, aumentando l'investimento economico a 1 miliardo e 850 milioni, 50 milioni di euro in più di Mittal. Ma in maniera incomprensibile questo rilancio non è stato nemmeno considerato e alla fine la procedura è stata chiusa accettando l'offerta di Arcelor Mittal, evitando la presentazione di altre offerte migliorative in termini ambientali e occupazionali, un comportamento che io definisco inspiegabile da parte del Ministero. Queste criticità per noi sono macigni, sono gravissime e questo Governo e io in primis non possiamo continuare a far finta di niente come è stato fatto per troppo tempo. Per questa ragione chiederò immediatamente chiarimenti ai commissari dell'ILVA, avvierò un'indagine interna al Ministero e chiederò subito un parere all'Avvocatura dello Stato. Qui si sta giocando con la salute delle persone, non è una questione di procedura di gara. Perché queste criticità, e ringrazio l'ANAC per averlo fatto in così breve tempo, riguardano la salute di tanti cittadini della provincia di Taranto, in particolare di quelli del quartiere Tamburi. Perché se si è fatta una procedura di gara che non ha messo al centro il massimo delle tutele occupazionali, delle tutele ambientali, delle tutele per la salute, è allora politicamente, per ora, ne dovrà rispondere chi ha fatto questa procedura di gara, soprattutto se poi all'interno di queste 23.000 pagine ci sono confermate le criticità che noi abbiamo segnalato. Ovviamente ci vengono confermate quelle che abbiamo segnalato. segnalazioni che vengono non solo dal Ministero dello Sviluppo Economico che guido io, ma anche da un Governatore della Regione che di certo non è vicino a questo Governo, che è il Governatore Emiliano, che vengono da tante associazioni, delle segnalazioni che vengono da tutto il mondo che si è sempre occupato di ILVA. Allora, quando io guardo questa procedura di gara e guardo la lettera dell'ANAC che è arrivata ieri, penso a tante persone che in questi anni hanno segnalato queste cose. Anche lei ha chiesto di accedere a questi atti in passato e non ci è riuscita. Beh, le posso assicurare che riuscire a decifrare tutti questi atti non è stato semplice, ma ne è valsa la pena. Perché adesso, per me, sul tavolo restano sempre le questioni occupazionali e ambientali. Tant'è vero che io ho detto chiaramente, come Governo, ad Arcelor Mittal che il loro piano di attuazione è il piano ambientale e il loro piano occupazionale non è soddisfacente. E ci devono fare una controproposta, che sembra che stia per arrivare nelle prossime ore per mezzo dei commissari, che ovviamente sono il loro interlocutore. Ma prima della tutela ambientale, prima della tutela occupazionale, viene la legalità per questo Governo. E in questo caso specifico noi abbiamo intenzione di andare fino in fondo e capire chi non ha sorvegliato queste criticità e chi, tra l'altro, si ostina a dire che è tutto in regola. Questo non è assolutamente accettabile. Poi ascolteremo i pareri degli enti che chiameremo in causa, ma dobbiamo tenere presente tutti quanti che l'Ilva non è una piccola industria di provincia. L'Ilva è un impianto industriale il più grande d'Europa in questo settore e quindi ogni volta che si trascura anche solo un punto del punteggio assegnato in questa gara, si sta permettendo o meno di emettere un livello di inquinamento maggiore che può essere letale per le persone. E quindi anche questa procedura di accertamento, anche questa procedura legata allo studio delle 23.000 pagine e di quello che ci ha detto l'ANAC, lo dedico sempre a quei cittadini del quartiere Tamburi di Taranto, tra cui padri e madri di famiglia che hanno visto morire i loro figli per leucemia e all'autopsia è stato trovato polvere di minerale nel cervello di questi bambini. Stiamo parlando di una situazione drammatica che non ho interesse a trascurare, ho tutto l'interesse di approfondire e lo farò consapevole del fatto che il tempo è poco, ma lo Stato quando cede parte di un impianto come quello di Ilva ad un'azienda deve garantire ai cittadini che quell'azienda ha tutte le carte in regola. E in questo caso il vero tema è che il pasticcio lo ha fatto lo Stato, non l'azienda. Il pasticcio lo ha fatto il Ministero quando ha bandito questa gara e su questo chiederemo il massimo nella procedura di gara di chiarezza, perché se qualcosa non è andato io voglio capire perché non si è andato e soprattutto di chi sono le responsabilità specifiche. La ringrazio per l'interrogazione.